La Giunta regionale ha approvato le linee guida e uno stanziamento di 900 mila euro per la realizzazione di progetti a favore dei minori che frequentano nidi e micronidi. Il provvedimento vedrà il contributo di 600 mila euro per l'introduzione delle telecamere a circuito chiuso negli asili nido e di altri 300 mila euro per la formazione del personale, degli operatori e delle famiglie. Si tratta di una risposta concreta proposta dall'assessore alle politiche per la famiglia volta a contrastare i fenomeni di maltrattamenti con interventi mirati sia di prevenzione attraverso un'adeguata formazione di chi presta servizio negli asili sia di sicurezza attraverso l'installazione di telecamere e di videosorveglianza. Regione Lombardia garantirà un aiuto concreto e importante andando a coprire la quasi totalità dei costi fino al 90%. Possono accedere alla misura i nidi e i micronidi pubblici e privati autorizzati al 31 12 2018. Le domande devono essere presentate direttamente alle ATS che erogheranno il contributo consuntivo e in un'unica soluzione.